In occasione dell'anniversario della scoperta dell'Apollo abbiamo deciso di raccontarvi il lungo rapporto tra gli etruscologi dell'Università di Roma la Sapienza e il santuario di Portonaccio a Veio. Il santuario, situato immediatamente al di fuori del pianoro dell'antica città, lungo il diverticolo di un importante asseviario che collegava Veio alla costa tirrenica, sorge su uno stretto terrazzo che si affaccia sul fosso della Mola, attualmente accessibile attraverso una porta ad arco costruita in epoca moderna, il cosiddetto Portonaccio da cui deriva il nome dell'area. Il complesso costituiva uno dei luoghi di culto più importanti non soltanto di Veio ma dell'intera Etruria, come è chiaramente percepibile dalla straordinaria qualità dei suoi arredi architettonici e dei materiali votivi rinvenuti, che ancora oggi rappresentano una delle parti più importanti del Museo di Villa Giulia. Nella forma in cui la conosciamo, l'area sacra è in realtà l'esito di una vicenda edilizia e cultuale molto complessa, che copre un arco cronologico di oltre quattro secoli. Dopo una fase di culto a cielo aperto, databile a partire dalla metà del VII secolo, negli ultimi decenni del VI c'è una prima monumentalizzazione, che coinvolge il settore orientale del santuario, dove vengono costruiti un altare quadrato con un condotto centrale per far colare le offerte in fondo nel suolo, un portico bordato da una canaletta e un piccolo tempietto a pianta rettangolare, entrambi sacri a Minerva. L'aspetto del tempietto è probabilmente evocato da un modellino votivo in terracotta che proviene dalla stessa area sacra. Il luogo di culto fungeva da Tesauros, cioè da luogo in cui venivano deposte le offerte dedicate alla divinità. A questi edifici si aggiunge poco dopo un tempio monumentale a tre celle, sacra da pollo ed ercole, e decorato sul tetto con le celebri statue croteriali, affiancato da una piscina rettangolare riservata a riti di purificazione, una cisterna per la raccolta delle acque e altre strutture di carattere minore. Intorno alla metà del V secolo a.C. il settore orientale dell'area sacra viene integralmente ristrutturato. L'arcaico saccello di Minerva viene demolito, al suo posto viene creato un recinto d'ingresso al santuario, il vecchio altare sostituito da un secondo, assai più grande e monumentale, circondato da un lastricato e affiancato da nuovi portici. Queste nuove costruzioni vengono edificate rialzando l'originario piano di Calpestio attraverso un poderoso interro, nel quale vengono sepolte le offerte votive, statue, vasi, gioielli, già conservate nel sacello di Minerva. Il santuario manterrà questo aspetto anche dopo la conquista di Veio da parte dei Romani, avvenuta agli inizi del IV secolo. I nuovi arrivati continuarono a frequentare l'area sacra come dimostrano delle dediche di devoti redatte in latino. Tra la fine del III e il II secolo a.C. si attua il progressivo smantellamento del luogo di culto, il Tempio viene demolito e alcune statue del tetto, tra cui l'Apollo, vengono sepolte, a ridosso del muro di contenimento della scarpata che delimitava il santuario al nord. La piscina e la cisterna vengono colmate con terrecotte del Tempio e doni votivi, l'altare viene demolito a livello delle fondazioni e su di esso viene steso uno strato ricco di terrecotte votive, che obliterà anche i portici. In età imperiale, l'apertura di due cave devasta l'area del Tempio e quella situata immediatamente di fronte ad esso, mentre una strada basolata attraversa l'intera area in direzione est-ovest. In epoca imprecisata, una serie di frane provoca lo scivolamento verso la valle del Cannetaccio di parte delle strutture del santuario e di una ingente quantità di materiale votivo. Le circostanze che hanno portato alla comprensione di questa serie di vicende e che ci permettono oggi di ammirare i capolavori dell'area sacra nell'esposizione delle antichità di veglio del Museo di Villa Giulia, inaugurato nel 2012, sono molteplici e risalgono a oltre un secolo fa. La scoperta dell'area sacra avviene infatti alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. A partire dal 1913 Giuseppe Angelo Colini, direttore del Museo di Villa Giulia, aveva avviato con i funzionari e il personale del museo, tra cui il soprastante agli scavi Natale Malavolta, un grande progetto di esplorazione nel comprensorio di veglio. Le indagini interessano sia l'area urbana, ad esempio la cittadella di Piazza Darmi, sia le necropoli come quelle di Grotta Gramiccia, Valle La Fata e Casale del Fosso. In queste aree si scoprono complessi funerari di importanza eccezionale per la comprensione della storia più antica della città. Basti citare la famosa tomba 1036 di Casale del Fosso, della seconda metà dell'VIII secolo a.C., attribuibile a un re sacerdote. Nel maggio del 1914 Ettore Gabrici, funzionario in servizio al museo, nota che nella Valle del Cannetaccio, a seguito di piene del Fosso della Mola, affiorano blocchi di tufo e materiali votivi, e decide quindi di avviare uno scavo nella zona. L'indagine, che dura pochissimi giorni fino a giugno, porta alla scoperta di una ingente quantità di materiale votivo, tra cui la testa di una statua di Minerva e numerose statuette di madre in trono con bambino, che il Gabrici giustamente ipotizza franati dalla soprastante terrazza del Portonaccio. A partire dal novembre dello stesso anno, 1914, le indagini si spostano quindi in questo settore sommitale, e dato che il Gabrici, nel frattempo trasferito al Museo di Palermo, interrompe la sua attività, vengono affidate a Giulio Quirino Giglioli, anche lui archeologo in servizio presso Villa Giulia. Gli scavi Giglioli, condotti per brevi periodi nell'arco di due anni, a causa della guerra e sempre sotto la sorveglianza del soprastante Malavolta, portano alla scoperta delle prime strutture attribuibili al santuario e, il 19 maggio 1916, della statua quasi intatta dell'Apollo, rinvenuta insieme a frammenti di altre statui acroteriali e ad altre votive accuratamente deposte lungo quello che, in seguito, si rivelerà essere il muro di contenimento della Scarpata a nord del santuario. L'eco della scoperta è vastissimo, anche grazie alle diverse pubblicazioni che ne fa lo stesso Giglioli tra il 1919 e il 1920, quando assume l'incarico della direzione del Museo di Villa Giulia. Da quel momento le statue entrano in tutti i manuali di archeologia e arte antica e divengono uno dei temi preferiti delle lezioni del corso di topografia dell'Italia antica dell'Università di Roma, la cui cattedra viene affidata allo stesso Giglioli nel 1925. Una più feconda stagione di ricerche viene inaugurata da Enrico Stefani, sempre in servizio a Villa Giulia, che tra il 17 e il 20 esplora sistematicamente l'area del Portonaccio, portando alla luce le principali strutture dell'area sacra, il tempio con la piscina nel settore occidentale, l'altare e il saccello di Minerva con i loro annessi in quello orientale. La documentazione di scavo in questo caso è, oltre che più abbondante, anche molto più accurata. Stefani infatti annota meticolosamente su preziosi taccuini tutte le diverse fasi dello scavo, descrivendo e documentando accuratamente strutture e materiali. Dopo una pausa di 19 anni, il settore orientale del santuario diventa oggetto tra il 1939 e il 1940 di alcune brevi ma fruttuosissime ricerche avviate da Massimo Pallottino, all'epoca giovane funzionario presso il museo di Villa Giulia. Pallottino riprende lo scavo esattamente dove lo aveva lasciato Stefani, indagando in particolare il sottosuolo dell'altare di Minerva. Tra i numerosi e importanti rinvenimenti si segnalano in particolare alcuni vasi di bucchero con iscrizioni in etrusco, come la brocca monumentale della metà del VI secolo a.C., dedicata da Carcuna Tulumnes, un individuo certamente di stampo aristocratico appartenente alla stessa famiglia che nel V secolo diede a un re avveglio, il Lars Tulumnius ricordato dalle fonti latine, Livio. O il piede di vaso con dedica di Aulo Vibenna, quello stesso personaggio che, noto dalle fonti antiche, è indicato con il fratello Celio come compagno d'armi di Mastarna Servio Tullio e rappresentato con quelli nel freggio storico della tomba Cansois. Questa seconda iscrizione suscita, come racconta lo stesso pallottino anni dopo la scoperta, il profondo stupore di Gaetano de Santis, insigne studioso del mondo antico e per diverso tempo, con alterne vicende, docente di storia romana all'Università di Roma. E' eccezionale il rinvenimento della statua in terracotta della dea con il bambino, ormai unanimemente riconosciuta come la tona con il piccolo Apollo. La statua, che faceva parte con Apollo, Ercole ed Hermes delle statue poste a coronamento del tetto del Tempio, viene rinvenuta in frammenti immediatamente al di sotto dell'astricato dell'altare di V secolo a.C., dove era stata verosimilmente deposta a seguito di un evento accidentale, forse un fulmine, che l'aveva colpita. Di grande importanza, inoltre, il rinvenimento del grande torso maschile in terracotta, che pallottino ipotizza essere pertinente sempre alla decorazione del tetto del Tempio, pur rilevandone la diversità tecnica e stilistica con il ciclo degli acroteri. Sulla base del confronto con la quadriga del Tempio romano di Giove Capitolino, rappresentata su numerose fonti iconografiche, pallottino ne ipotizza l'originaria pertinenza ad una colossale statua rappresentante una divinità su carro, ipotesi che gli studi più recenti hanno escluso leggendo nel pezzo il tronco superiore di una statua votiva, verosimilmente di Ercole. Dopo aver abbandonato l'amministrazione dell'antichità e belle arti, e quindi il Museo di Villa Giulia, per entrare nel mondo, a lui più congeniale, della ricerca e della docenza universitaria, pallottino, divenuto ordinario di etruscologia alla sapienza nel 1946, continua ad interessarsi del portonaccio, come dimostrano sia le numerose pubblicazioni incentrate sull'esame delle statue fittili e delle iscrizioni, sia i suoi tacquini di appunti, oggi conservati presso l'università, sia ancora le foto che lo ritraggono in visita con gli allievi nell'area sacra. Le statue del portonaccio vengono inoltre sempre inserite nei percorsi espositivi delle numerose mostre sugli etruschi da lui organizzate, a cominciare da quella celeberrima e per molti versi pionieristica dedicata all'arte e civiltà etrusca, inaugurata a Milano nel 1955 e poi ospitata in numerose città europee. Nella seconda metà degli anni 40 del Novecento si situano infine gli ultimi importanti interventi condotti al portonaccio da Maria Sant'Angelo, anche lei in servizio presso il Museo di Villa Giulia. A lei si devono importanti scoperte, come alcune parti delle statue acroteriali e soprattutto il rinvenimento della cisterna circolare situata tra il tempio e l'altare, che la studiosa trova ricolma di vasellame pressoché integro. Sempre alla Sant'Angelo spette il merito di aver portato avanti il restauro del materiale architettonico e votivo. Nonostante l'eccezionalità del materiale recuperato e nonostante gli sforzi e la buona volontà dei suoi scavatori, il santuario e i suoi importantissimi rinvenimenti rimangono per decenni in pratica inediti. Le stesse vicende museali subite dai reperti, relegati per lungo tempo nei depositi ad eccezione delle statue acroteriali e pochi altri elementi, contribuiscono a questa sorte. Una netta inversione di rotta si ha a partire dagli anni 80 del secolo scorso grazie alla lungimiranza e all'intraprendenza di Giovanni Nicolonna, succeduto nel 1980 a Massimo Pallottino nella cattedra di Truscologia della Sapienza. La ricomposizione presentata nel 1987 del gruppo votivo di Ercole e Minerva, ricomposto con frammenti degli scavi Gabbrice e Stefani, offrono allo studioso l'occasione per proporre alla soprintendenza, all'epoca diretta da Paola Pelagatti e da cui dipendeva il Museo di Villa Giulia, un progetto di studio, restauro ed edizione sistematica del santuario. L'iniziativa trova una pronta accoglienza, anche perché va a confluire in quel coraggioso e lungimirante programma di ristrutturazione dei depositi di Villa Giulia, meritoriamente affrontato dalla stessa Pelagatti, con la collaborazione del funzionario responsabile di Veglio, Francesca Boitani. Viene quindi avviata, tra la soprintendenza e l'allora Istituto di Truscologia dell'Università di Roma, una preziosa collaborazione, che porterà con l'aiuto di ricercatori e laureanti dell'Università all'attesa pubblicazione integrale del Portonaccio. Affiancano fin da subito Giovanni Colonna, tra gli altri Maria Paola Baglione, cui vengono ad esempio affidati il riesame degli scavi Stefani e lo studio del regime delle offerte votive, con particolare riguardo alla splendida serie di statue in terracotta dedicate a Minerva come protettrice delle nascite e delle iniziazioni giovanili, con tutti gli interessanti risvolti di ordine tecnico e artistico. E Francesca Melis, che ricordiamo con affetto, che si è occupata in particolare della risistemazione e della classificazione preliminare dell'ingente quantità del materiale architettonico in terracotta. Negli anni 90 Giovanni Colonna, coadiuvato dall'architetto Germano Foglia, conduce un attento studio metrologico della pianta del Tempio, che culmina nella ricostruzione virtuale dell'alzato con strutture leggere direttamente sovrapposte alle murature esistenti, realizzata con la supervisione di Francesco Ceschi e Francesca Boitani. In quegli stessi anni si dà un rinnovato impulso all'edizione sistematica dei rinvenimenti del Portonaccio, grazie all'avvio del progetto Veio, che sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'Università e la soprintendenza nel 1996, non solo ha promosso la realizzazione di nuovi scavi nell'area urbana, condotti da varie cattedre della Sapienza e tuttora in corso, ma anche l'edizione dei materiali provenienti dai vecchi scavi. E giungiamo così nel 2001, a quasi 50 anni dalla loro realizzazione, all'edizione integrale degli scavi di Massimo Pallottino nella zona dell'altare, curata da Giovanni Colonna, Laura Michetti e altri collaboratori. Nel 2009 Laura Ambrosini pubblica il volume dedicato ai materiali provenienti dalla cisterna Sant'Angelo. Negli ultimi anni è stato ripreso con vigore, da parte di Claudia Carlucci, Daniele Maras e Laura Michetti, lo studio di tutti i sistemi decorativi del Tempio, nei loro molteplici aspetti tecnici, decorativi e artistici. Uno studio che, insieme a quello dedicato da Barbara Belelli ai tetti degli edifici più antichi del Santuario, è volto alla pubblicazione definitiva e complessiva del Tempio e del Santuario. Tutto questo lavoro di ricerca e di studio è stato ampiamente utilizzato nell'ambito dell'esposizione delle antichità del Portonaccio nel Museo di Villa Giulia, curata da Anna Moretti e Francesca Boitani e inaugurata nel 2012. A questi studi vanno poi aggiunti quelli numerosi condotti come tesi di laurea sin dagli anni 80 del secolo scorso, che hanno interessato molte classi di materiali, come le statuette votive realizzate a stampo o materiali degli scavi Stefani e Pallottino. Fanno parte della storia di questi giorni il progetto La forma del monumento, avviata a partire dal 2014 e volto alla formazione di giovani studiosi nell'ambito delle nuove tecnologie, che ha consentito la documentazione in 3D e l'analisi morfometrica delle statue croteriali del Tempio e del gruppo votivo di Ercole ed Atena, finalizzato a nuove forme di fruizione. Il tirocinio, attivato dal 2019 nell'ambito dell'insegnamento di etruscologia della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, che prevede la schedatura informatizzata dei materiali di veglio conservati nei depositi dell'orologio. Una grande comunità di intenti, quindi, da sempre e per il futuro. Abbiamo collaborato con il Museo di Villa Giulia e continueremo a collaborare, senza mai stancarci e con grande passione.